Oggi parliamo della mia macchina, la Ferrari. Ciao e benvenuti a Oggi Parliamo, il podcast per gli studenti di italiano. Come va? Come stai? Spero tutto bene! Prima di iniziare ti ricordo che puoi supportare questo podcast offrendomi un cappuccino sul mio Patreon dove puoi anche comprare le trascrizioni degli episodi. Aiutami a mantenere questo podcast gratuito e senza pubblicità. Vediamo le tre parole di oggi. La prima parola è paese, un nome. Questa parola è interessante perché ha due significati diversi e viene usata molto spesso. L'Italia è un paese, la Francia è un paese, la Cina è un paese. In questo senso è un sinonimo di stato. Il secondo significato è quello di villaggio, di un piccolo centro abitato. Per esempio, io sono nato in un piccolo paese. La seconda parola è parcheggiare, un verbo. Capisci dall'etimologia del verbo che parcheggiare significa mettere la macchina, l'automobile, in un parcheggio. Il freno a mano è quel tipo di freno che serve per mantenere bloccata un'automobile, un camion, qualsiasi veicolo su quattro ruote. Se non attivi il freno a mano, la macchina può muoversi anche quando è parcheggiata. Ok, siamo pronti per leggere la notizia di oggi. Se conosci il lago di Garda, sai che è un luogo meraviglioso, bellissimo. In uno dei paesi che circondano il lago, un uomo ha parcheggiato la sua macchina, senza tirare, senza inserire il freno a mano. Non stiamo parlando di una macchina normale, di una Fiat Panda. Stiamo parlando di una Ferrari da circa 340.000 euro. Il pilota si è dimenticato il freno e la macchina è andata lentamente verso il lago per poi entrare nel lago. Il fatto è ancora più surreale perché il pilota era dentro la macchina, non era uscito, era seduto dentro la macchina. Probabilmente questa persona stava guardando i post del mio Instagram. Per fortuna la macchina si è fermata in un punto in cui l'acqua non era alta e il pilota non si è fatto male. Anche oggi abbiamo finito. Come sai, sono un professore di italiano molto cool per cui puoi trovarmi su LinkedIn, su Instagram, su Facebook e su Twitter e se vuoi puoi trovare le trascrizioni degli episodi sul mio Patreon. Noi ci sentiamo domani. Ciao! 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 Ciao!